Bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosio.it quest'oggi parleremo di Adobe Audition, uno dei software più utilizzati nel mondo del missaggio audio digitale nello specifico parleremo della funzione Remix che ci aiuterà a tagliare un audio fino a portarlo alla durata in minuti e secondi che noi desideriamo ipotizziamo di avere una musica che dura 3 minuti e abbiamo l'esigenza magari di coprire il nostro documentario soltanto con 30 secondi o soltanto un minuto di musica e con la funzione Remix fa il lavoro sporco al nostro posto quindi inserisce dei tagli e accorcerà la nostra musica fino a portarla alla durata che noi vogliamo prima però vi ricordo se volete di venirmi a visitare anche sul sito internet www.fabioambrosio.it sito dove troverete tutti i video tutorial di Adobe Premiere, Audition, Photoshop e chiaramente After Effects oltre a qualche articolino extra dedicato al meraviglioso mondo dell'intrattenimento digitale per esempio c'è un articolo sui codici che si possono utilizzare su Netflix per accedere a tutte le categorie segrete di film e serie tv se vi fa piacere iscrivetevi anche al mio canale YouTube e se ancora di più vi fa piacere mettete un like alla mia pagina Facebook vi aspetto sui social network sostanzialmente torniamo in Audition eccoci in Adobe Audition questo non è un tutorial introduttivo dopo il scontato che chi guarda questo tutorial abbia già lavorato qualche volta con questo software per coloro che invece non lo conoscono posso dire che sostanzialmente l'interfaccia grafica di Audition è molto simile all'interfaccia grafica di tutti i software Adobe quindi i vari strumenti vengono suddivisi in pannelli i pannelli possono essere spostati, modificati il vostro spazio di lavoro può essere personalizzato come al solito come voi volete tutto può essere chiaramente ripristinato alle impostazioni di default e per importare del materiale audio all'interno di Audition potete sia trascinarlo dalle vostre cartelle all'interno del programma potete selezionarlo e importarlo premendo le tasti CTRL I e quindi scegliere l'audio che volete lavorare e poi importarlo oppure potete utilizzare il browser multimediale presente in questo pannellino al fianco qui all'interno di Audition e lavorare direttamente qui dentro noi oggi utilizzeremo quest'ultima strada bene, cosa faremo? noi ipotizziamo di avere un documentario magari su cui stiamo lavorando e ipotizziamo che abbiamo 60 secondi, un minuto di documentario che vogliamo coprire esattamente con una musica che a noi piace particolarmente però c'è un problema la musica che noi vogliamo utilizzare è molto più lunga di un minuto quindi dobbiamo tagliare questa musica per adattarla e farla diventare lunga esattamente 60 secondi ecco, in questo caso, per questo nostro scopo ci viene in aiuto una nuova funzione di Audition che si chiama Remix come funziona? innanzitutto scegliamo la musica che vogliamo lavorare io per esempio voglio lavorare questo brano che composi tempo fa per una colonna sonora di un documentario che stavo realizzando è composta da una prima parte solo strumentale di pianoforte una seconda parte più ritmata e un'ultima parte chiaramente che è la conclusione perfetto, questo brano dura esattamente 2 minuti e 58 secondi molto più lungo del minuto che io sto cercando dobbiamo tagliare questo audio bene, fino a poco tempo fa bisognava mettersi qui scegliere i punti di battuta in cui andare a effettuare il taglio rimuoverli e sostanzialmente fare un lavoro di taglia, incolla, sottrai, aggiungi per portare la musica alla durata che noi volevamo, che noi desideravamo con la funzione Remix per fortuna è tutto un pochettino più semplice come funziona? innanzitutto dobbiamo creare una sessione multitraccia dobbiamo accedere alla sezione di Audition chiamato multitraccia sostanzialmente è un'area in cui è possibile editare più file musicali alla volta ma non mi dilungo troppo, do per scontato che chi guarda questo tutorial sappia cosa sia una sezione multitraccia quindi clicco sul bottone multitraccia creo una nuova sezione chiamandola come voglio specifico chiaramente la posizione del mio disco in cui voglio salvare questa sezione premo ok dice che già esiste noi chiaramente diamo conferma che vogliamo sovrascrivere nel mio caso, perfetto eccoci nella sezione multitraccia di Adobe Audition come vedete ci sono delle tracce che noi andremo a popolare oggi soltanto una perché quello che stiamo per fare riguarda soltanto una traccia nello specifico questa musica trascino l'elemento sonoro che voglio modificare all'interno di una di queste tracce a vostra scelta per praticità utilizzerò la prima traccia mi assicuro chiaramente che la musica in questione inizi esattamente all'inizio della sessione perfetto allargo un pochettino la visuale in maniera tale da visualizzare l'intera forma d'onda ed eccoci qua la musica che noi vogliamo tagliare ovviamente come detto dura 2 minuti e 58 secondi per tagliarla dobbiamo utilizzare la funzione Remix per attivare questa funzione clicco sopra l'onda che voglio modificare vado con il tasto destro del mouse e scelgo la funzione Remix la trovate qui in basso e abilito chiaramente la funzione Remix nel menu contestuale che viene aperto clicco ancora con il tasto sinistro del mouse e come vedete Audition sta elaborando sta sondando sta facendo una scansione della forma d'onda che noi vogliamo lavorare per poter scegliere sostanzialmente capire dove può andare a effettuare i tagli al mio posto l'operazione è abbastanza veloce vedete che nel pannello proprietà c'è la tab Remix già aperta e come potete vedere la funzione Remix è già attiva bene finito qui quasi come potete vedere Audition ci dice ci indica che questo brano dura 2 minuti e 58 secondi ma non è la durata che noi vogliamo per il nostro brano noi vogliamo che questa canzone che questa soundtrack duri un minuto perché magari nel mio caso il documentario che stavo montando necessitava di essere coperto per solo un minuto con questa canzone quindi scrivo il numero di secondi e di minuti a cui voglio portare la mia traccia audio quindi nel mio caso un minuto olè e adesso teoricamente quando premerò il tasto Enter sulla tastiera Audition farà il lavoro sporco al mio posto quindi effettuerà dei tagli e mi trasformerà questo brano da 2 minuti e 58 secondi a solo un minuto guardate premo Enter bam Audition ha fatto il lavoro sporco al mio posto vedete che sono stati aggiunti dei tagli caratterizzati da questa seghettatura che mi indica che è intervenuto l'algoritmo di Audition e ha fatto sostanzialmente delle asportazioni della mia musica in maniera tale da poterla tagliare e farla durare più o meno un minuto c'era una prima parte che era solo sostanzialmente di pianoforte ed è rimasta praticamente intatta vedete che non ci sono tagli in questa sezione il primo taglio arriva in questo punto vediamo se Audition ha fatto un buon lavoro al nostro posto ascoltate attentamente questo frammento di musica fantastico nessuno si è accorto di niente è stato fatto un taglio ma l'orecchio è praticamente impercettibile vediamo se l'altro taglio è uscito bene perfetto direi anche questo e come potete vedere per magia la musica guardate l'orologino qui in basso a sinistra dura esattamente un minuto voilà Audition ha fatto il miracolo da solo senza che io dicessi praticamente nulla ha tagliato la musica che in origine durava 2 minuti e 58 secondi portandola alla durata di soltanto un minuto e pochi chiaramente pochi secondi chiaramente non è sempre così bello non è sempre così semplice ci sono dei casi in cui bisogna lavorare un pochettino con le impostazioni per esempio noi possiamo dire quante battute dobbiamo mantenere come minimo per i nostri tagli in questo caso lui sa che almeno 8 misure musicali devono essere mantenute possiamo dare una tolleranza di 5 secondi in questo caso ma possiamo aumentare questo valore per dare ad Audition maggiore libertà possiamo anche abilitare questa funzione che permette di dilatare il brano in maniera da accelerarlo o da rallentarlo per magari farlo durare esattamente il numero di frame che noi vogliamo eccetera eccetera sostanzialmente però le impostazioni della funzione Remix sono queste e con pochi clic come avete visto è possibile modificare la durata di un brano in maniera da farlo durare esattamente il numero di secondi che noi vogliamo è tutto per questo tutorial vi ricordo il mio sito internet www.fabbiambrosi.it se volete vedere altri tutorial c'è anche il mio canale youtube iscrivetevi e venite a trovarmi sulla mia pagina facebook Fabio Ambrosi se ovviamente vi fa piacere per domande, suggerimenti, qualunque cosa commentate pure questi video commentate anche gli articoli che trovate sul sito c'è anche il corso di montaggio video con Premiere se volete imparare ad utilizzare Premiere grazie mille per l'ascolto e per la visione al prossimo tutorial, ciao! ciao!